La sentite nell'aria questa musica? O respirando pieni polmoni? Riuscite a sentire questo profumo? Io non sono ancora al 100% quindi magari dal punto di vista olfattivo non sono proprio il massimo però ragazzi è l'odore, è il suono di quello che è il giorno 1 post annuncio di Tiago Motta alla Juventus tra l'altro visto che pochi istanti fa anche il Milan ha annunciato il nuovo allenatore Fonseca secondo me c'è meno entusiasmo nei tifosi milanisti rispetto a quello che è stato l'annuncio di ieri di Tiago Motta alla Juve poi questo non significa niente, alla fine è sempre il campo a parlare è quel pallone a calcio che rotola, che finisce nelle reti oppure no, che decide i risultati e quindi gli umori e fa cambiare anche i piani in corsa quindi magari poi Fonseca farà una stagione migliore rispetto a Tiago Motta alla Juve questo non ce lo auguriamo assolutamente, speriamo che Tiago possa riportare la Juve dove deve stare dove deve essere, nei primissimi posti delle classifiche e deve tornare come dicevo anche ieri ad essere squadra molto molto antipatica infatti volevo farvi una domanda avete notato anche voi più commenti del solito dei tifosi delle altre squadre? a me è capitato un po' in tutti i social dove abbiamo parlato di Tiago Motta alla Juve anche qui nei commenti di Youtube ci sono stati un sacco di tifosi di altre squadre che ci sono sempre, nella mia community è piena di tifosi rispettosi anche di altre squadre però poi capita sempre di andare a prendere quella percentuale di minoranza magari di persone occasionali che non seguono effettivamente tutti i contenuti che dicono altre squadre e vengono a digitare le loro opinioni molte volte anche in maniera non proprio meravigliosa quindi con offese o prese in giro ecco, ieri io un po' sotto tutti i social network ho visto tanti tifosi delle altre squadre commentare questa notizia di Tiago Motta alla Juve e mi è sembrato anche che fossero un pochettino preoccupati da quelli che gufano dicendo non mangia neanche il panettone a quelli che dicono cavolo la Juventus come farà a fare il mercato con tutti questi debiti che cosa cambierà rispetto a prima la Juve mi sembra che stia facendo un po' di paura Tiago Motta alla Juve quindi ci auguriamo che si possa andare in questa direzione qua ma per andare in questa direzione qua bisognerà passare al calciomercato e quindi giunto lì sveglia eh oh, è già 12 ore che abbiamo annunciato Tiago Motta più di 12 ore e non ci sono ancora state ufficialità che cosa stai facendo? stai dormendo? muoviti dobbiamo costruire la nuova Juventus la nuova Juventus che dovrebbe ripartire da Di Gregorio in porta trattativa già conclusa tra l'altro ieri ha messo anche like all'annuncio di Tiago Motta da parte della Juventus stiamo soltanto aspettando appunto le comunicazioni e sapevamo che in parallelo si era creata questa trattativa che vedeva Cesni allontanarsi dalla Juve direzione Arabia, direzione al Nasr di Cristiano Ronaldo ecco, ieri sera abbiamo avuto una sorta di primo piccolo rallentamento perché ieri sera effettivamente a partire da Fabrizio Romano abbiamo letto che la Juventus e l'Al Nasr non sono perfettamente allineati per quanto riguarda il valore del cartellino del calciatore ne avevamo parlato la Juventus chiedeva almeno 5 milioni di euro ecco, è uno stop definitivo? questo mette a rischio la trattativa? secondo me no nel senso che la trattativa può comunque concludersi con Cesni che andrà a giocare effettivamente nel campionato di Cristiano Ronaldo e tanti altri campioni però la Juve potrebbe dover rinunciare un pochettino a quella parte fissa che si immaginava in testa già 5 milioni per un calciatore in scadenza di contratto e con un'età avanzata e con un ingaggio pesante non sono pochi non sono pochi infatti 5-6 milioni, 7 milioni quello che poteva essere era assolutamente un'ottima cifra per la Juve ne avevamo parlato nelle settimane scorse e nelle ore scorse è ovvio che probabilmente la Juve non è tanto interessata a quello tant'è che sembra Giuntoli disposto a guadagnare un pochino meno dal cartellino di Cesni abbiamo anche però parlato di una cosa quindi per coerenza andiamo ad affrontare questo discorso e c'è Giuntoli che in questa sessione di calciomercato tornava un po' al centro del progetto Juve tornava a essere quel dirigente che non si fa mettere i piedi in testa dagli altri che piuttosto non vende se non sono le cifre che interessano a lui però, ripeto, c'è sempre da fare un distingo perché Cesni per la Juventus tra virgolette anzi, senza le virgolette la Juventus oggi vede Cesni come un problema ecco, ma voglio usare dei termini forti perché credo che sia effettivamente così la Juve che decide di andare a fare un portiere come Di Gregorio gli promette di essere il primo se ha Cesni in rosa per la Juve Cesni è un problema viene visto come un problema e la Juve farà di tutto per spingere fuori il giocatore anche magari il giocatore che non è proprio convinto e allora farà pressioni sul giocatore per farlo uscire cioè, è così la situazione perché se in un primo momento sembrava destinato a Cesni a rimanere la Juve e alternarsi con Di Gregorio ora invece tutte le strade portano alla permanenza di Perin che era uno scenario che avevamo scartato aprioristicamente all'inizio quindi per la Juve non è tanto indispensabile quei 3, 4, 5 milioni quelli che saranno 2, 2,5 non lo so quanto più togliere un portiere che oggi è il titolare e che ha un ingaggio molto elevato quindi questa è la priorità di Giuntoli questa è la priorità della Juve anche a costo davvero di cercare di spingere fuori i Cesni di fargli capire che non è più gradito poi sappiamo che le volontà dei calciatori nel calcio moderno contano tanto e quindi chissà può succedere veramente di tutto se il giocatore non è convinto o se dall'altra parte il club dell'Arabia dirà no, guarda solo a parametro zero in questo momento la trattativa è in stand-by però secondo me ci saranno i margini comunque per cercare di sbloccarla quindi non vedo tanto un Giuntoli che si fa mettere i piedi in testa quanto più un Giuntoli che vuole risolvere una problematica che si è creata in casa dato che la richiesta di Tiago Motta era un portiere bravo abile a giocare con i piedi come Di Gregorio e la volontà della Juventus invece era quella di abbassare l'età media abbassare il monte in gaggi queste due cose si sono riunite nel nome di Di Gregorio e ora c'è da risolvere questa situazione che sembrava invece andare tutta liscia fino a qualche ora fa ci sono anche altre situazioni del mercato non dimentichiamoci di Canfiori non dimentichiamoci di Copmeiner uno dei due perché la Juve vuole un uomo di qualità tra le linee alle spalle di Blaovic ma non dimentichiamoci nemmeno di Di Lorenzo che è un giocatore che passa un po' sotto traccia però se abbiamo detto che per la Juve Cesni viene visto come un problema anche per il Napoli Di Lorenzo viene visto come un problema perché sappiamo che sono praticamente separati in casa ora bisognerà cercare di capire se le parti potrebbero ricucire questo rapporto la vedo complicata sinceramente quindi mi immagino Di Lorenzo lontano da Napoli e la Juve forse viene quasi vista come la soluzione naturale perché è un giocatore che conosce molto bene Giuntoli è stato proprio Giuntoli a portarlo al Napoli è diventato il capitano del Napoli dello scudetto proprio per via della trattativa che Giuntoli ha portato in porto dall'Empoli è un giocatore che ricopre un ruolo in cui la Juventus oggi è abbastanza sfornita perché ha giocato a tre per tutto il tempo invece ora bisogna andare a quattro e quindi c'è la necessità di andare ad acquistare anche dei difensori laterali Di Lorenzo può anche fare il terzo in una difesa tre come molto probabilmente lo vedremo anche durante l'europeo in corso quindi probabilmente l'europeo va un po' a complicare questo discorso e quindi sia Calafiori sia Di Lorenzo verranno trattati post-europeo o comunque i tempi di attesa saranno un po' più lunghi ma ne avevamo già parlato di Calafiori questa cosa stessa la di Ciampere di Lorenzo però se fino a qualche ora fa il Napoli sembrava molto orientato su Federico Chiesa anche qui forse al momento si sta registrando un pochettino di calma che potrebbe essere dettata sia dallo stesso europeo perché anche Chiesa in questo momento è impegnato con altre cose così come Scesni tra l'altro anche se la Juventus avrebbe fretta di chiudere la questione portiere piuttosto che la questione Calafiori di Lorenzo e Chiesa perché sono cose che si possono articolare anche dopo l'europeo Scesni sarebbe una priorità per la Juve gli altri li vanno a cuocere un pochettino a fuoco lento però se l'ipotesi di scambio Chiesa al Napoli di Lorenzo e la Juve più conguaglio a favore della Juve sembrava la strada più facile percorribile logica e anche immediata chissà che non possa davvero inserirsi la Roma che avrebbe già individuato in Federico Chiesa il giocatore ideale richiesto da De Rosse che è andato avanti praticamente tutta la seconda parte di stagione a parlare di giocatori abili nell'uno contro uno e cioè l'identikit perfetto di Federico Chiesa poi magari non sarà così e davvero si incastrerà quello scambio tra Chiesa e di Lorenzo non sarei contento lo sapete non è uno scambio che apprezzo io leggo i vostri commenti ho letto gente che mi chiede ma che senso ha dar via sia Chiesa che tra l'altro sulle ha valutato 40 milioni e ci sono richieste dalla Premier anche da parte di club che l'hanno seguito durante tutto l'anno pronte ad assecondare la richiesta della Juve ritenuta congrua valida idonea e quindi sulle Chiesa molto probabilmente saranno destinati a partire io credo che li vedremo fuori dall'Iventus entrambi almeno al 90% in questo momento viene a sbilanciarmi in questo modo qui credo che Chiesa alla Juventus voglia cercare di toglierselo un po' come è stato come per McKennie e Ealing in scadenza 2025 con questo scambio con Douglas Lewis che dovrebbe portarsi a termine nelle prossime ore dato che sappiamo che c'è una finestra temporale importante per la Stoneville che è il 30 giugno per il discorso legato al fair play finanziario così come Chiesny anche lui scadenza 25 quindi questi giocatori qua secondo me la Juve vuole cercare di toglierseli proprio via i rinnovi di cui si era discusso non sono andati a buon fine quello di Chiesa è un rinnovo che forse non si è esattamente discusso come immaginava Federico anche al termine della finale di Coppa Italia però io credo che la Juve abbia questa volontà qui e io ripeto sono d'accordo con voi che mi dite ma che senso accedere Chiesa e su lei per andare a prendere Greenwood anche io fatico a comprenderla questa situazione però saranno tutte richieste tecniche di Tiago Motta o saranno tutte necessità economiche di Giuntoli perché il calcio deve intrecciare queste due componenti quelle economiche e quella sportive e quindi l'obiettivo di Giuntoli sarà quello di regalare a Tiago Motta la Juventus migliore possibile dal punto di vista dell'autosostenibilità è una parola che abbiamo utilizzato spesso nei mesi scorsi e ora dobbiamo tirarla fuori quindi probabilmente la Juve ha necessità di alleggerire i costi a bilancio Chiesa è uno dei giocatori che costa di più a bilancio insieme a Blaovic insieme a Bremer insieme a Scesni hanno dei costi di gestione abbastanza elevati per via del cartellino che è ancora un ammortamento importante magari per Bremer Chiesa e Blaovic o gli ingaggi come nel caso di Blaovic come nel caso di Bremer come nel caso di Scesni e forse anche come nel caso di Chiesa quindi queste sono un po' le linee guida secondo me del mercato estivo di questa Juventus una Juventus che sarà chiamata a una vera e propria rivoluzione e quindi giuntoli perché non ci sono ancora ufficialità muoviamoci per cortesia grazie a tutti